Il mondo è consapevole che una minaccia incombe. Ma non temete, faremo il necessario. I cieli si oppuscano, i mondi camono. Dobbiamo unirci per la grande guerra. Tu non sei di qui, come sei arrivato? Se questa è la grande guerra, ci serve lei. C'è qualcos'altro, qualcosa che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Il portatore del coltello avrà un incarico. E questo potrebbe metterlo in grave pericolo. C'è qualcosa di malvagio. Il destino di molti mondi può dipendere da te. Nuovi mondi ti attendono. His Dark Materials, queste oscure materie. La nuova stagione dal 21 dicembre su Sky Atlantic.